Marche è sempre più green, guardano al futuro puntando alle auto amiche dell'ambiente a salvaguardia della salute pubblica. Prima in Italia siamo la regione con la percentuale maggiore di autoveicoli ad alimentazione alternativa, il 17,8% sul totale del parco circolante. I dati emergono da un'elaborazione ACI, la strategia è quella tenacemente sostenuta dalla regione Marche, prosegue nella sua politica volta alla riduzione delle emissioni di gas di scarico e dell'inquennamento dell'aria. Assessore al bilancio Fabrizio Cesetti, il percorso politico di questa giunta è costollato da iniziative all'insegna del rispetto ambientale e a tutela della salute pubblica? Assolutamente sì, l'ambiente è un patrimonio enorme per ogni comunità, la salute pubblica altrettanto, noi moltissime iniziative abbiamo adottato, innanzitutto per quanto riguarda gli investimenti, pensiamo per la tutela del territorio in generale, ma soprattutto le recenti iniziative dove ad esempio abbiamo previsto nel 2017 l'esenzione del bollo auto per le auto ibride. Questo è stato un investimento importante perché è un controvalore di oltre 500 mila euro, però ha portato ad un aumento delle immatricolazioni, se noi pensiamo che dopo questa misura le auto ibride sono passate da 400 a 1000 immatricolazioni. E questo soprattutto ha contribuito a far diventare la Regione Marche la prima Regione Grigna d'Italia, se vogliamo, no? Quindi abbiamo avuto anche gli onori delle cronache nazionali su questo. Gli autoveicoli ad alimentazione alternativa, elettrici, ibridi, a metano e a GPL, sono nella nostra Regione 208.775, che corrispondono appunto al 17,8% del parco. Il 5,5% è alimentato a GPL, l'11,9% a metano, mentre gli autoveicoli ibridi ed elettrici rappresentano lo 0,4% del parco circolante. Sono mezzi di trasporto sostenibile, non inquinano, riducano l'impatto ambientale per costruire il futuro della mobilità su quattro ruote. E tra le altre misure, frutto dell'impegno di questa Giunta regionale? L'anno scorso, nel 2018, in occasione dell'assestamento, abbiamo previsto l'eliminazione totale di qualsiasi accisa di competenza regionale sulla benzina. Una misura che questa vale 4 milioni di euro per ogni anno, diciamo è diventata operativa addirittura dal 1 novembre del 2018, lo è tuttora ed è una misura che abbiamo confermato e confermeremo anche per il futuro, come confermeremo per il futuro, l'esenzione del bollo auto, appunto per le auto ibride. Inoltre, abbiamo previsto l'esenzione del bollo auto per tutti i veicoli del volontariato di protezione civile. Anche questa è una misura che vale qualche centinaio di migliaia di euro, credo però che sia molto importante anche all'insegna della solidarietà e di chi quotidianamente pratica la cultura della solidarietà.